E ora, un consiglio dal Voice Network. Sei pronto a immergerti nelle vicende più drammatiche e sconvolgenti dei grandi incidenti italiani? Mi chiamo Nicolò Locati e nel mio podcast Disastri proverò a raccontarti delle più grandi tragedie della storia del nostro paese, cercando di riportare i fatti, analizzando le cause e le storie personali che ci sono dietro all'evento e provando a rispondere alle domande. Perché è capitato? E soprattutto, si poteva evitare? Cerca subito Disastri su tutte le piattaforme di podcast. Ci tengo a dire che io nutro un profondo rispetto verso chi ha il coraggio di essere consapevole e di ammettere a se stesso cose scomode come, ad esempio, di non voler migliorare, di voler commettere determinate cose che magari sono sbagliate per se stesso, intendo, e dici io voglio farlo, io faccio questo, io sono così, non me ne frega niente. Stavo rivedendo Scimeless, questa serie veramente clamorosa, e ci sta sto personaggio a un certo punto da io ho scelto di bere. Proprio, poi fa una brutta fine, è tutto, una persona che si è rovinata la vita, la carriera, uno che c'è la tre dottorate, insegnante universitario, mille cose, io ho scelto di bere. Ora è chiaro che, insomma, quando poi c'è il momento down, quando si devono pagare le conseguenze dei propri errori, siamo tutti lì a dire ho sbagliato e adesso voglio migliorare. Però io effettivamente, ora a parte rarissimi casi di persone, anche perché parlo a volte in determinati momenti della vita anche di me stesso, di persone a me vicine, rarissimi casi di persone che poi erano anche un po' costrette a fare quel level up, volenti o nolenti, io, la maggior parte delle persone, alla fine, alla fine era, fanno tutti i discorsi un po' a convenienza, no? Eh, no, adesso mi sono finalmente lasciato, adesso sono solo, ho ripreso in mano la mia vita, poi arriva la prima persona, un minimo con cui c'è affinità e subito via, una nuova storia uguale alla precedente. Oppure, no, adesso ho deciso, cambio, mi metto a dieta, faccio una vita sana, faccio questo, quest'altro, poi appena finisce il problema, no? Magari uno c'ha un problema e dice, il medico mi ha consigliato sta cosa, perché c'ho questo problema, poi il problema passa, svanisce, e subito torniamo a fare come ci pare, fino a che non si ripresenta un problema, no? Adesso studio, adesso mi metto a studiare, ho deciso, perché mi va bene così, poi arriva il momento di dare le prove, e dici, no, beh, basta così, poi ci riproviamo. E così, no, adesso sono tornato, mi sento carico, pronto, voglio fare mille cose, voglio fare mille progetti, voglio spaccare tutto, e poi alla prima difficoltà, no? Conosciamo bene l'iter. L'iter di vite che sono sempre le stesse, che fanno della mera masturbazione metaforica, quel grado di lamentela, quella roba di, eh, se solo avessi voluto, se avessi potuto, farò, ma guarda, parliamone di tutte queste frasi fatte, che poi, insomma, perché la vita si parla con i fatti, l'ultimo editoriale era sulla concretezza, continuo a ripeterlo, però ci tengo veramente a dire che io adoro una categoria di persone che non fa vittimismo, non parla di quello che sarebbe potuto essere, eccetera, eccetera, a quelle persone che dicono io sto sbagliando, continuo a sbagliare, non mi rompete i coglioni, va bene così. Cioè, avanti. A volte, allora, voglio entrare un po' più nel merito della questione in maniera un po' più profonda, nel senso che a volte ci rendiamo conto di avere qualcosa di rotto dentro, e e quel qualcosa magari l'abbiamo provato ad aggiustare mille volte, a volte abbiamo avuto l'impressione di riuscirci, a volte meno, e a un certo punto dici, vabbè, io io seguo questa mia rottura, cioè se io sono come un puzzle, e nessun pezzo si conforma, allora a un certo punto magari è meglio trovare un qualcosa che non si attacca perfettamente, ma che dia un senso a questo disegno, perché altrimenti siamo sempre incompleti. allora qual è il discorso? Che la razionalità arriva fino a un certo punto, nel senso che noi possiamo lamentarci di un qualcosa o dire che non faremo più qualcosa fino a che quel qualcosa non ci ha reso saturi, in qualche modo. Cioè, ci sono persone che magari ad esempio fanno uso di sostanze tutta una vita e poi a un certo punto basta, e non lo fanno più, e non lo fanno più veramente, e magari non devono fare neanche comunità, cose, come è possibile, erano semplicemente sature, e invece ci sono persone che magari ci cascano diecimila volte, fanno mille percorsi in comunità e stanno sempre lì, perché magari manca proprio un pezzettino, manca proprio quell'essere saturi, nonostante magari dovrebbero esserlo, ecco, nessuno può calcolare la vastità del nostro vuoto, nessuno, soprattutto quando le cose magari iniziano a girare, nel senso che, no, immaginate una persona, prendo questo esempio della tossicodipendenza, immaginate una persona magari tossicodipendente che smette, poi magari si realizza nella vita in maniera come non si aspettava neanche quella persona, e si ritrova una mattina nella solitudine del successo, non parlo per forza del successo discografico, cinematografico, eccetera, semplicemente il successo economico, e ad avere giorni liberi dove magari ha creato una macchina che va da sé e quindi si ritrova a fare i conti e rinizia a drogarsi, così, dal nulla, e non te l'aspetti, ecco, lì è ancora più complesso poi riprendersi, però è solo per far capire che a volte ci si ritrova a fare i conti con circostanze che la vita non che non avevamo preventivato nella vita, a volte ci sono persone che hanno delle vite che effettivamente sono colme, no? C'è gente che veramente si sveglia la mattina va a lavorare torna a casa c'ha figli piccoli e fa la notte insonne e poi la mattina dopo è uguale c'ha solo la domenica per riposarsi, c'è gente che veramente vive così, però non fa una piega, ogni tanto qualche lamentela, ogni tanto momenti in cui sei in macchina guardi fuori e vorresti scappare però sono persone che veramente vivono quella vita ma perché? Perché quella vita magari è più meritevole ai loro occhi di una vita dove magari hai tempo libero hai anche denaro da spendere perché avere tempo avere una situazione dove puoi scegliere a volte è molto più complesso c'è gente che preferisce stare in prigione che in libertà per intenderci proprio praticamente oppure c'è gente che si è ritrovata e deve portare avanti delle scelte e deve farlo da uomo è così la vita è così la vita è a volte ce la scegliamo a volte ce la ritroviamo però spesso e volentieri quello che ci troviamo è quello che ci siamo scelti anche attraverso le nostre non scelte e altre volte invece non sappiamo neanche noi dove siamo perché ci siamo come ci siamo finiti e se ne usciremo in ogni caso a me piacciono le persone che poi vanno avanti e seguono la loro strada nel bene e nel male perché a volte per uscire dal fango bisogna veramente affondarsi completamente penso che non ci sia cosa più difficile più triste di una scelta presa a metà che poi non conduce da nessuna parte lo dico veramente per esperienza in quanto molte volte per rialzarmi ho dovuto veramente stare a terra tanto tanto tempo molto più di quanto avrei voluto con la rabbia di chi sta a terra e in questo momento veramente ripensare a certi momenti mi spezza il cuore però posso dire che è ancora più complesso per me ad esempio che forse qualcosa di rotto dentro ce l'ho trovarmi in una situazione di tranquillità anche qui ma che vuol dire rotto dentro nel senso io credo che la vita sia una e spesso e volentieri le persone anche fanno scelte complesse difficili anche negative per essere attaccate ad un qualcosa anche di intenso e spesso e volentieri io vedo le vite di altre persone che magari sono anche relativamente serene e io ogni volta che ho provato a viverle mi sono annoiato a morte mentre magari vedo vite di persone che che io non sarei in grado di reggere a livello di ritmo e penso ok però se la stanno sguazzando stanno ballando sotto la pioggia io mi sarei già preso una polmonite però magari va bene così per loro credo tuttavia che non si debba giudicare la vita di nessuno tantomeno la propria e bisogna imparare a vedere le vite degli altri e anche la propria con un sorriso distaccato il sorriso distaccato di chi sta godendo di ciò che accade di chi semplicemente ha capito che l'unica cosa che conta è essere vivi e che la vita è realmente un dono oggi ci ho pensato oggi ero sotto la pioggia diluviava non potevo muovermi c'era un gruppo di studenti c'era della musica in sottofondo c'era questa ragazza che ha accennato un balletto rapido una roba così buttata che non aveva la minima intensità da parte loro ma l'aveva per me che mi sono girato ho detto ah che bello sono accerchiato di giovani persone che mi stanno trasmettendo la leggerezza di questo momento poi magari quelle persone tornando a casa facevano i conti con loro vuoto come ho fatto io come faccio io però è stato un piccolo bel momento la pioggia la musica la situazione e non ho fatto niente non ho vissuto nulla non è servito far nulla fondamentalmente ho semplicemente osservato la vita degli altri in un momento neanche gioioso non riempiamolo di poesia retorica ma evidentemente ero io che era una prospettiva intensa priva di giudizio e per vivere piccoli momenti così a volte devo impegnarmi tanto e devo faticare per arrivarci aiuta anche la solitudine aiuta anche l'essere l'essere consapevoli del fatto che spesso e volentieri noi ci esaltiamo tanto per questo dico che adoro chi sbaglia e continua a sbagliare e lo sa perché poi sono persone di una reale umiltà perché noi tendiamo a sentirci forti quando abbiamo magari una situazione sociale quando abbiamo un ruolo di potere quando abbiamo una situazione economica stabile quando in un contesto abbiamo più esperienza degli altri l'essere umano piace mettersi sul pedistallo non per vantarsi semplicemente perché magari sei più tranquillo tutto qua quello è chi vuole stare con una barca in tempesta a parte chi è abituato a navigare in tempesta fondamentalmente nessuno e quindi di conseguenza cazzo dici ok se c'è la tempesta spero sia da un'altra parte magari guardo con dispiacere chi la vive con sofferenza però vorrei perlomeno che la mia barca stia anche sulla terra vorrei stare sulla terraferma ecco soprattutto quando diluvia e quando ci sono lampi tuoni e quindi va bene così però io ci tengo a dire che un passo alla volta sto cercando io personalmente di di guardare il mondo con quell'umiltà che io credevo di avere in passato ma non avevo e mi è servito tanto tantissimo rivedere il mondo da una prospettiva difficile anche riprovare un sentimento di cattiveria perché oggi io mi sento più consapevole del fatto che ciò che ho non è scontato anzi dovrò combattere per mantenerlo e dovrò combattere per ricostruirlo perché tutto passa e soprattutto io domani posso essere su un monte e dopo domani posso essere in un abisso e il passaggio ma neanche dopo domani questa notte tra tre ore posso trovarmi insonne guardo il soffitto sofferente ora che lo dico probabilmente sarà così ed essere distrutto domani mattina posso svegliarmi ed essere felice spesso si guardano quelli che stanno peggio di noi in una forma sbagliata che è quella di chi appunto sta più in alto ma siamo tutti sullo stesso piano basti pensare che la mia vita magari è niente rispetto a quella di un famoso imprenditore miliardario ma se quel famoso imprenditore miliardario gli danno sei mesi di vita la sua vita non conta un cazzo la mia diventa la cosa più importante al mondo per lui riflettiamo su questo riflettiamo riflettiamo molto oggi voice ti consiglia sapevi che i pistacchi di bronte e cime tempestose hanno una cosa in comune e se ti dicessi che quella cosa sono i ciclopi sono Alessandro Gelain e nel mio podcast mitologia esploro ogni settimana le storie più incredibili del passato raccontando i segreti che hanno plasmato la nostra cultura ascoltalo su tutte le piattaforme e lasciati stupire